Con la salvezza che è ormai matematica, le ragazze della Nottolini Volley ospiteranno domani sera con inizio alle ore 21 la capolista del Girone E di B2, una volta conquistato l'obiettivo stagionale per le Bianco Blu, un appuntamento da affrontare senza la pressione del risultato, ma con l'attenzione dovuta al prestigioso impegno, perché se è vero che ai fini della classifica l'incontro di domani sera del Palapiaggia non aggiunge niente al buon campionato delle Capo Anoresi, è altrettanto vero che un match sulla carta proibitivo come quello che le oppone alla Covemes a Lazzaro Bologna sarà lo stimolo supplementare per cercare di fornire una prestazione super. Lazzaro Bologna arriverà con ben alto stato d'animo la formazione ospite, perché la classifica nelle parti alte si gioca punto a punto, con Castelfranco che nonostante una vittoria in più insegue ad un punto di distanza, e la stessa Firenze, terza in classifica, con due vittorie in meno e a soli tre punti dalla vetta. Ciò significa che anche una vittoria al tie-back a questo punto della stagione è come una mezza sconfitta. Con questi presupposti l'impegno delle ragazze di Becheroni sarà particolarmente difficile.